Sul tavolo le iniziative che il Comune intende mettere in campo per aiutare i commercianti e il mondo della ristorazione nella ripresa in vista delle riaperture. Vertici a Benevento a Palazzo Mosti sulle prossime mosse dell'amministrazione Mastella che ha convocato gli esercenti. L'utilizzo degli spazi esterni e poi altre questioni di tasse che riguardano il Comune. Noi siamo disponibilissimi a collaborare in qualsiasi modo con l'amministrazione comunale, però è chiaro che quando riguarda la ristorazione se non vengono cambiate delle regole dal governo centrale tutto diventa poi meno importante. Sotto accusa l'ultimo decreto con il prolungamento del coprefuoco alle 22 fino al 31 luglio e una serie di restrizioni che rendono la situazione intollerabile. La somma di queste restrizioni fanno sì che la ristorazione non potrà ripartire sul serio. Se nei prossimi giorni non ci saranno ulteriori disposizioni non escludiamo nuove proteste prosegue Carfora per affrontare la situazione che continua a produrre conseguenze nerissime per la categoria. Dopo 10-11 mesi di chiusura pensiamo un attimo a tutti i locali, vinerie, pub che prospettive hanno di lavorare per il periodo estivo. Io penso zero. Quindi questo dopo tanti mesi di restrizione e con le lemosini dei ristori porta veramente a una depressione, a non avere più la forza di reagire. L'altra conseguenza è la chiusura definitiva di molte attività. Grazie. Grazie. Grazie.